Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho cambiato la location come posizione, ragazzi, non so come si dice in inglese, comunque ho cambiato posizione, perché io con l'inglese sono unificata. Allora, oggi stiamo qui, ho cambiato la posizione perché è il completamento della piccolina che abbiamo qui. Quindi, devo sistemare questa stanza e fare l'altra stanza, perché visto che sta a tira, la sistemo una a questa ora, perché stasera praticamente devo andare a tirare le cose, eccetera, non ce la facciamo a sistemare. Quindi sistemiamo adesso, poi chiuderemo la porta e sta tutto ordinato. Quindi, sistemiamo insieme. Allora, qui la busta che abbiamo comprato, allora, faccio vedere prima quello che abbiamo comprato, poi sistemiamo tutto insieme. Allora, abbiamo comprato questa strisciola poi dei suonetti uno già aperto, perché vuole più con i lavori poi abbiamo la cantellina che è di due anni, due o due anni questo è di sei due anni alla fine palloncini questa qua è tutta rosa questo è l'altro che fa scino alla totte c'è la madrina che farò una fine poi abbiamo comprato questi palloncini qua che sta scritto buon compleanno questo qua è tutta rosa e tutti rosa poi guarda, ma quanto palloncini devi compiare? no, altri palloncini così qua qua tutti colorati questo è l'altro con il numero due ma la caglia mi sono scorciata quello peggio è tutto con gli ultimi palloncini ah, questa è la tua paglia cosa? altri palloncini con il due stasera secondo me i polmoni se ne vanno a quel paese perché non abbiamo un confiatore, ragazzi, perciò allora pochettine rosa e fattoretti rosa guarda, è tutta la busta allora questo e questo mettiamo l'angusto anzi facciamo una cosa l'angusto e mettiamo un bel ampio allora come prima cosa aspettate come prima cosa devo togliere questo che la faccio da un'altra ho fatto volamente per un'angustanza lo devi stare a riposare io avevo dei il mio ciobbino con una borsa qui che avevo stata rientrata sono andata a fare le unhe perché domani praticamente abbiamo un battesimo e qui sono andata a fare le unhe allora 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 non so se vabbè iniziamo a fare qui perché non so se voglio girare la tavola oppure no la metto di sì però la giro perché la tavola sta così la metto tutto all'incontrario lì c'è un'altra termosifone ci sono vari legali che poi ovviamente anche viene stasera a evitare la tavola le sali sono e la männacini i e processes protagonistina perezzi nel hard ma non lo striscione si presenta così vediamo ok penso che io riprenda del tipo con un nudo se me si riesco a fare il nudo vedere non esce il doppio non così si esce però per sicurezza facendo una coppia allora mi sono accrezzata di scotch allora che sicuramente possiamo fare così allora facciamo così faccio di un lato e poi come faccio e poi dopo ve lo faccio vedere in un dato dove lo metto ok ragazzi riusci a prendere un po' di scotch tipo lo voglio stare qui così così siamo più sicuri che non cade eccolo qua ok il primo gancio ho fatto ora metterò con l'altro gancio ok raga ho fatto ho messo i fili ok questo lo andrò a mettere dove sta quella vetrina quindi andiamo allora facciamo una cosa ci vediamo la promessa eccoci qui raga allora al finale l'ho messo qui di solito penso che si vede non riesco a zoomare davanti comunque l'ho messo lì al finale questo qua lo tolto proprio l'ho messo solo con lo scotch si tiene ok poi poi l'ho messo con questo qua aspetta un attimo giro qui allora andremo a compiare prima quella con i due comunque andremo a compiare ah ecco la va non l'ho trovata allora mi sto a prenderla e sta qui allora ci vediamo quando ho finito di compiare raga situazione attuale c'è una giornata migliata allora ho fatto quella dei due anni ho compiato così ho compiato anche quella di buco pleno quindi ora sposto la videocamera mi vede una cosa sì ok ci si vede allora andiamo venite con me perché se ah a proposito quella è la situazione del divano allora posizioniamo andiamo a prendere l'aluncino rosa allora raga ho scelto di fare così allora per non fare tutto rosa qua l'aluncino un compreanno ho scelto di prendere le rosa stavo dicendo l'aluncino un compreanno a metere le rosa di un litro guarda andiamo 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 lo metto al contrario perché se no voi non vedete ok secondo me che ne ho bisogno di acqua ok raga ho preso in giallo di fucse allora raga aspettate un attimo ok vi faccio vedere situazione attuale allora raga spero che vi sta piacendo aspettate un attimo di posizione una videocamera ok raga come state dicendo spero che vi piace poi 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 vorrei fare il tipo non entra così video con me aspettate lo scotch ok andiamo da questa altra parte della stanza si qui c'è uuuu ok Allora ragazzi Allora ragazzi Allora ragazzi Allora ragazzi Allora ragazzi Allora ragazzi Allora 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 Ci vediamo nella parte 2